La qualità non si inventa, si frigge o si inforna? Il nostro slogan è uno dei tanti, si frigge e si inforna perché noi abbiamo prodotti che possono essere cotti o in olio, quindi fritti, o in forno perché sono già pre-fritti, quindi abbiamo questa possibilità doppia che per il consumatore è un grosso vantaggio. La situazione com'è? Abbiamo vissuto tempi molto difficili, però da maggio, quando ci sono state riaperture di tutto il mondo di installazione, il lavoro è cambiato completamente, stiamo lavorando bene da 4 mesi, naturalmente abbiamo da coprire un buco di circa 8-9 mesi di mancato fatturato, però siamo positivi, già questa fiera dimostra che in presenza vedo tanta gente e quindi tanta voglia di tornare a lavorare. Poi siamo marchiciano? Marchiciano non molla mai, lo sappiamo, quindi teniamo duro e anzi lo stimolo è di fare ancora meglio per il futuro.